Quest'anno un'iniziativa particolare che si è riadattata un po' alle esigenze anti-Covid. L'anno scorso abbiamo organizzato una cena come Consiglio Comunale, abbiamo raccolto delle risorse per acquistare delle carrozzine pediatriche che abbiamo poi donato all'ospedale. Quest'anno invece abbiamo dovuto reinventarci. Questa cosa delle scatole del regalo è un'iniziativa virale nata a Milano che abbiamo raccolto a Pesaro. Abbiamo chiesto alle associazioni Braccia Aperte, Città della Gioia e Caritas quali fossero, se ci fossero delle famiglie con bambini, adulti, uomini e donne che non avevano la possibilità di aprire un regalo natale. Ecco che è partita la solidarietà. Abbiamo raccolto come Consiglio Comunale e come Giunta delle scatole regalo con una cosa buona, una cosa calda all'interno, una cosa utile e una cosa divertente. I bambini troveranno un giocattolo, un libro, un paio di guanti e qualche dolce. Gli adulti ugualmente troveranno qualcosa di utile, qualcosa di caldo. In un anno molto difficile abbiamo provato a cercare di dare un sorriso ai bambini che soprattutto più di ogni altro hanno sofferto durante tutto questo periodo dell'anno per la riduzione della socialità. Abbiamo cercato di donargli un pochino della magia del Natale che comunque tutti noi ci ricordiamo fino a quando eravamo piccoli. Questa è un'iniziativa che ha voluto cercare di portare un raggio di luce in un anno molto buio e ci auguriamo che sia l'ultima volta che dovremo farlo con queste mascherine, che dovremo farlo donando a distanza dei pacchi, mentre ci auguriamo che potremo ritornare a vivere la socialità come una volta cercando di donare con il contatto e con la presenza e soprattutto con l'amore, quello che è il significato del Natale e soprattutto ai bambini.